Buongiorno cari amici, bentornati sul canale. Oggi andiamo a commentare il mini budget di quasi Quarteng, che bel nome, che è il nuovo ministro dell'economia, cancelliere del tesoro, chiamatelo come lo vedete, quello che decide i discorsi monetari in Inghilterra sotto il regime, il governo di Liz Truss, la nuova PM, prima ministra. Andiamo a vedere di cosa si tratta con qualche giorno di ritardo a fronte del fatto che questo mini budget è stato visto male dai mercati, i mercati sono questa entità sovranazionale apolide che tanto vuole il nostro benessere, la nostra salute, il nostro well-being, il nostro stare bene. Ci vogliono tanto bene, l'abbiamo visto in Grecia, l'abbiamo visto in Italia, adesso che gli arriva il PNRR è un altro indebitamento enorme. Ad ogni modo, senza scadere nella critica sul liberismo, neoliberismo, andiamo a guardare questo budget, che è stato appunto visto male dai mercati perché riduce le tasse, quindi riduce il carico fiscale al cittadino inglese e alle sue aziende e indebita il paese. Quindi si vanno a chiedere tanti soldi in prestito, a debito, però non si alzano le tasse, questa cosa non piace ai mercati. Andiamo a vedere di preciso cosa vuol dire, per noi persone comuni in particolare, queste nuove proposte, questo budget, mini budget. Allora, iniziamo con un cambiamento alle fasce di tassazione dei redditi. Allora, in Inghilterra, come in quasi tutti i paesi, in base a quanto guadagni annualmente, hai delle fasce diverse. Quindi, per esempio, le prime 12.500 sterline sono tax-free, vi tassano zero. Da 12.500 a 50.000, se non erro, quindi questo bracket di 38.000, vi tassano al 20%. E da 50.000 a 150.000, vi dovrebbero tassare al 40%. E prima che arrivasse questo nuovo budget, da 150.000 in su, quello che supera quella soglia, veniva tassato al 45%. Quasi il nostro ministro ha eliminato questa tassazione del 45%. Quindi tutto quello che va sopra i 50.000, verrà tassato al 40%. Quindi questo extra 5% per chi era sopra i 190.000 annui lordi non esiste più, quindi l'ha tolto. Questo va a favore di chi guadagnava molto, chi guadagnava più di 150.000. Bene, poi il bracket del 45% resta appunto a partire dai 50.000, quindi non viene cambiato. E il Chancellor ha anche proposto di ridurre la basic rate, che come vi ho detto da 12.500 a 50.000 è di 20%, lui la vuole abbassare al 19%. Questo va a beneficio di tutti i poveri, cioè chi guadagna fino ai 50.000, molto buona come cosa, molto interessante. Questo da aprile dell'anno prossimo. Poi, vediamo. Inoltre, la cosa molto bella è che ha una reversione, quindi è stato annullato questo aumento dell'1,25% della National Insurance, che era stato introdotto qualche mese fa, forse neanche un anno fa, da Rishi Sunak, il precedente ministro, viene annullato, da novembre viene tolto. Quindi la National Insurance è il sistema pensionistico delle pensioni inglesi, obbligatorio, quindi se sei dipendente eccetera paghi una percentuale del tuo stipendio, vai in contributo previdenziale, si dice in Italia, per le pensioni. Ecco, questo era stato aumentato dell'1,25%, che è tanto. Infatti si hanno lamentato tutti, si hanno incazzati tutti di questa cosa. Questo significa che una persona che guadagna 100.000 sterline l'anno, perdeva, gli entravano circa 1.000 sterline in meno l'anno di stipendio, quindi 80 al mese. Mentre una persona con 50.000 magari aveva l'1%, non lo so cos'è, 430 sterline in meno al mese. Comunque, questo aumento dell'1,25%, che poi doveva andare ad aiutare le NHS, che è stata tanto uberata, che ha fatto tanta fatica, annullato, quindi annullato questo aumento di tasse. Bene, andiamo avanti. I bonus dei banchieri, che avevano un limite, dei bankers bonus, è stato eliminato questo limite. Che era un limite, potete andarvelo a cercare, cercate bankers bonus, una roba tipo che se tu sei un banker e hai 150.000 di stipendio, forse c'era un cap che ti permetteva di darti un bonus solo equivalente al 100% del tuo stipendio, quindi gli altri 150.000. Lui togliendo questo gap potrebbe permettere a un banker, a un manager, a uno in alto ovviamente, di darsi un bonus magari del 300%. Una cosa di questo tipo. Vabbè, quindi questa cosa è incentivare i banchieri, gente che già ha problemi di soldi, non è che ne deve essere troppi. Poi, business tax cut, questo è molto importante. La corporation tax, che è la tassa che pagano le aziende, le società limited company, e quindi molti anche liberi professionisti inglesi, quindi tra virgolette partite IVA, che si appoggiano al sistema limited company, era del 19% e il nostro amico Rishisunak l'ha voluta portare al 25%, quindi aumentarla del 6%, tantissimo se ci pensate, e che quasi l'ha annullata, detto che non ci sarà nessun aumento dal 19 al 25%, quindi un altro aumento di tasse tolto, via, fuori dalle balle, 19%, quindi questo a favore di chi vuole aprire un'azienda in Inghilterra, investire in Inghilterra, gli conviene restarci, perché non gli alzeranno la corporation tax dal 19 al 25%. Ok, quindi business tax cut, molto buono. E poi stamp duty e altre tax changes, questo è interessante, abbiamo che la stamp duty, che è la tassa che si paga per comprare un immobile, fino a ieri, era che i primi 125.000 di valore, sui primi 125.000 sterline del prezzo dell'immobile non si pagava nessuna tassa e si iniziava a pagare da 126 in su. Questa tassa lui l'ha cambiata e adesso si pagherà da 250.000 in su, quindi ha raddoppiato il tax free per chi compra casa, sia investitori che first time buyer. Questa cosa è molto buona, perché una casa da 250.000 come stamp duty sarebbe costata 2.000, 2.500, forse 3.000 sterline circa. E lui avendola tolta ha dato in tasca agli acquirenti di casa e di immobili un paio di migliaia di sterline. E ha aumentato anche il limite di stamp duty free per i first time buyer, per chi compra la prima casa, da 300.000, quindi chi comprava la prima casa ce l'aveva gratis fino a 300.000, l'ha alzata a 425, che è una botta, è veramente tanto. Quindi molto bene. Inoltre, questa cosa tocca a me e altri colleghi, le famose regole restrittive della IR35, che è un sistema di tassazione che tocca i libri professionisti informatici, che era stato introdotto nell'aprile 2020, un sistema più stringente di tassazione per i libri professionisti, su cui ho già fatto un video, cercate IR35 nei miei video, è stato tolto. Quindi questa cosa è stata tolta. Un'altra cosa che ha veramente infastidito il mondo dei libri professionisti e di chi lavora in IT, non solo in IT, però, chiunque è un libri professionista, veniva tassato con questo nuovo sistema, introdotto sempre da Rishi Sunak & Company, forse non è stato lui, comunque lui l'ha sempre appoggiato, non l'ha mai voluto togliere, questo sistema era un sistema ingiusto, perché andava a trattare i libri professionisti, i libri professionisti li tassava come dei dipendenti, quindi il libri professionista che guadagna 100.000 all'anno veniva tassato al massimo con questo nuovo sistema e quindi disincentivandolo, che motivo ho io, il libri professionista, a fare il libri professionista a 100.000 se mi tassi al massimo? Allora vado a fare il permanent, però se vado a fare il permanent capisci che lavoro di meno, sono più rilassato, ho le ferie, ho la malattia, c'ho la pensione, tutto, quindi questa cosa dell'IR35 era una grande ingiustizia che lui ha tolto. Poi dice che gli increase nei duty rates per birra, vino e cider sono stati cancellati, quindi nessun aumento a birra, vino e sidro. Questo è il mini budget, poi vabbè si parla di grandi investimenti per infrastructure planning, la creazione di nuove 40 investment zones con tax break per i business, nelle Midlands, nel Norfolk, nel West of England, in altre zone. Quindi di fatto, per riassumere, e poi chiudo, questo budget ha ridotto le tasse, ha dato respiro e sollievo a molti libri professionisti e anche a persone normali e ha tolto gli aumenti di tassazione ingiustificati o ingiusti più che altro, che erano stati fatti negli ultimi anni da Boris Johnson & Company che con la scusa del Covid e l'NCS è stata overwhelm, le spese, eccetera, abbiamo dovuto stampare soldi per i furlo, dobbiamo recuperarli alzandovi le tasse. Ecco, questi alzamenti di tasse sono quasi tutti stati annullati, quindi bravo quasi Quarteng, ovviamente io non sono un esperto di economia, non sono un amante del neoliberismo, se riduci le tasse, aumenti il debito, l'indebitamento di un paese, prima o poi questa cosa probabilmente la si pagherà, non so quando, non so chi la pagherà, se avrà un effetto nel breve o nel lungo periodo, ovviamente qua ci sono due scuole di pensiero, c'è chi ti dice che se abbassi le tasse fai ripartire l'economia, crei più un movimento maggiore di soldi, quindi hai ridotto le tasse, però hai aumentato il giro d'affari, quindi raccogli più tasse, la gente lavora di più, spende e consuma di più, e quindi quello che pensavi di aver perso, in realtà lo guadagni perché c'è più movimento, se alzi le tasse, come dire, fossilizzi l'economia, la fermi. Non so chi ha ragione o chi abbia torto, non me ne frega una mazza, a me l'unica cosa che mi interessa, che a fine mese, a fine anno, mi tornino più soldi in tasca, invece che meno soldi, e questa è la stessa cosa che dovrebbe interessare a voi. Tutte le altre speculazioni, su il debito, il centro monetario, tutte queste cose qua, lasciatele ai chiacchieroni, pensate ai fatti concreti, vi hanno abbassato le tasse in Inghilterra? Sì. Siete felici di questa cosa? Dovete esserne felici. Godetevela finché è dura, godiamoci la finché è dura, perché non si sa mai. Con questa vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo video sul mini budget, se avete domande scrivete, e ci vediamo presto. Ciao!